Quello che diciamo ai nostri lavoratori è quello di non perdersi d'animo, che ormai siamo agli sgocci, ci sono pochi giorni e ormai da attendere questi pochi giorni per capire veramente se, come ci aspichiamo, c'è un futuro roseo o se invece c'è da fare altre azioni. Potrebbe essere finalmente vicina alla svolta della vertenza FIMER di Terra Nuova Bracciolini, anche se la parola d'ordine resta ancora una volta cautela. Troviamo, se non rassicuranti, però di buon auspicio il fatto che ci siano più soggetti, uno dei quali è un soggetto industriale e che, vista la celerità con il quale si chiede il prossimo incontro di convocazione in sede ministeriale al MISE, che questo sia propedeutivo, probabilmente ha un annuncio sugli sviluppi, speriamo e auspichiamo positivi, della vertenza. Novità emerse dal tavolo regionale tra istituzioni e vertici del gruppo in vista dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, ipotizzato per metà marzo, e riportate ai lavoratori nel corso dell'assemblea davanti ai cancelli della fabbrica. Il primo punto che ovviamente dovremo verificare è che, quando si convocherà il Ministero dello Sviluppo Economico, che indicativamente dovrebbe essere tra il 22 e il 23 di marzo, il primo punto sia l'aver effettivamente sottoscritto un'esclusiva con l'investitore. Questo già ci farebbe un po' sospirare e risollevare e sollevare dal punto di vista sindacale. Proseguono infine gli attestati di solidarietà ai circa 800 dipendenti tra diretti e indotto. Negli ultimi giorni il Consiglio regionale ha infatti approvato all'unanimità una mozione proposta dal gruppo PD per sostenere l'avvertenza dei lavoratori FIMER. L'importante sono sempre i soliti temi, che rimanga inalterata l'occupazione, che questo stabilimento venga agevolato e garantito un futuro significativo in un settore che di per sé è trainante a livello mondiale e che sia tutelata anche la rete dell'indotto dei fornitori e dei terzisti.